Buongiorno signori e signori, sono Jordi Gas e oggi mi trovo in questa fantastica location che ho trovato quando facevo il corriere Perché sì, esatto, ho fatto anche il corriere E la trovate e me ne innamorai subito, ci voglio sempre le pause franzo Perché oggi volevo definitivamente sfacare un mito e togliere tutti i dubbi Mi sono informato ed ho capito perché quello è meglio di questo Tutti a dirmi, eh che schifo, scaldabagno, lungo, lungo In realtà sono d'accordo con voi Sono d'accordo con voi perché questo è molto più figo, è molto più sexy, è molto più CRT È molto più for race use only e quindi è molto più figo Ma partiamo subito con una domanda Rifletteteci, perché tutte le moto 600 e anche 1000 del CIV, del SBK hanno lo scarico lungo e non lo scarico corto? Perché sono stato costretto a mettere questo scarico? Perché in un periodo come quello che stiamo vivendo adesso Dove cerco di romperci le scatole per qualsiasi cosa Ho provato ad essere un po' meno riconoscibile e un po' più silenzioso in quello che facevo Almeno finché non ci rimetto in zona gialla Però avevo sottovalutato anche io inizialmente questo bello scaricone molesto In realtà è, in realtà è, primo figo perché Michi Garba disegna una bella linea sulla moto La rende più una moto da grandi E secondariamente è che la moto in realtà va molto meglio Cioè la moto va molto meglio con questo scarico rispetto al vecchio CRT Sono inizialmente chiesto ma perché tutte le moto da pista hanno lo scarico lungo e non quello corto Essendo quello corto più figo E in realtà c'è un motivo Mi sono informato, sono andato da imperiale moto Quindi non è che sono andato dal primo che capita Ma uno veramente esperto e soprattutto veramente esperto di R6 E gli ho posto i miei quesiti, le mie domande Gli ho fatto, Gianni ma perché l'R6 da quando si è montato lo scarico come avete dato voi Scarico che ha un diametro di ingresso di 65 e due cita di 60 Era montato su un R1 E noi l'abbiamo riadattato grazie a Saldo Tig, Bruno Elefante, numero uno Io ne voglio un bel animo, questi collettori Sto raccordo me l'ha fatto lui che ha una pompa disumana Ma perché la moto mi va meglio? L'avvento di gioco è normale Perché con la lattina che ci avevi prima È una questione di compressione Onde di pressione si chiamano Questo è il raffronto Il termine di scarico è lungo Per più tempo i gas di scarico sono contenuti all'interno di uno spazio Che è ristretto Questa è altra la pressione che viene esercitata sul motore Perché il motore sentirà che c'è più resistenza nel buttare fuori i gas di scarico Praticamente finché i gas sono compressi Il motore percepisce una pressione Dal momento in cui i gas sono espansi all'infinito Cioè quando finisce lo scarico Quindi quando c'è il bocchettino d'uscita Del terminale A quel punto il motore non risente più delle pressioni contrarie Esercitate dai gas in uscita Perché come sapete Secondo le legge di Einstein Ogni azione c'è una reazione Quindi tutte le volte che c'è una reazione Che va Che spinge il gas verso fuori Questi mandano onde di pressione verso il motore Queste onde di pressione Più sono lunghe per più tempo Diciamo così Perché hanno più spazio da percorrere Quindi il terminale è più lungo Più danno pressione Fanno stare i motori in pressione Si dice E questo come ne ha altre caratteristiche E le prestazioni È meglio o è peggio L'imperiale appunto Riguardo a ciò Mi ha spiegato che dipende da che moto Stai andando a modificare Perché Perché se te la vai a mettere Su una sportiva 600 Che ha leggermente meno cavalli E diciamo è Per antonomasia Una moto morta Perché tutti te ne sono morta Ma non mi sembra a me Che sia morto Dobbiamo solo saperla un po' guidare Se noi andiamo a metterci Un terminale corto Come il CRT Va ancora di più A ammazzare i bassi E allungargli Il contagiri Cioè Per scaricare completamente Il contagiri Serve più tempo Mi sono ritrovato molto Con la spiegazione dell'imperiale Perché le mie sensazioni Appena montato questo scarico È provato immediatamente Infatti se vedete La staffa Di là È stata fatta con una Con una L Che regge le mensole Perché ho troppo voglia Ce l'ho lasciata anche Perché ci sta bene Ora Il grammo vecchio All della 100% racing Me la sta facendo Tutta bene Ricavata È pieno di tornio Comunque Appena provata Le mie sensazioni Sono state che La moto tirava Molto di più ai bassi Nel senso che Come prendevo il gas in mano E lo piantavo E lo puntavo La moto è di due Mi strappava le mani Prima invece Era molto più Uaaaa Penso sia una spiegazione Molto scientifica Questo Uaaaa Cioè Era Facciamo una curva Andava basso Basso Normale E poi partiva tutta Ora invece fa proprio così È a retta praticamente Come tocchi gas Boom Ti strappa le mani E parte La cosa Negativa Se vogliamo È semplicemente Che scarichi Il contagiri prima Col terminale lungo È una cosa positiva Per chi guida in strada Secondo me Perché riesce A far girare Le reseggi Di più alti E quindi avere Prestazioni maggiori Perché la coppia Si è abbassata Abbassandosi la coppia Riesce a farla stare Più alta Poi c'è La strada più alta Vai più forte Perché c'è Ovviamente più cavalli E più coppia In pista Probabilmente Mi sa che mi troverò Un po' peggio Con questo scarico Perché Mi ricordo Che al Mugello Arrivavo già così In fondo al dritto Con questo scarico Mi sa che finisco La sesta Probabilmente Ma proveremo Quindi ricapitolando Ragazzi Scarico corto O a lattina Come lo chiamo io Perché questa è una lattina Ragazzi Cioè sembra una fanta Praticamente La bevi Aumenta il contagiri La velocità di scarico Del contagiri È come se tu mettessi Niente meno alla corona Per capire Quindi te la allunga Un po' la moto Ma il difetto È che ti scarica I bassi Cioè ai bassi La moto rende meno È meno Compressa Quindi è meno performante Questa è una nota negativa Per le sportive Invece Le tremei lungo Ha di pro Che ti aumenta Molto i bassi E ora ho capito Perché infatti Nei tornei Civ eccetera Hanno le moto Comunque originali Diciamo così Comunque non troppo Lavorate Come quelle della Moto2 eccetera Hanno i terminali Lunghi Quindi ti dà Molta più coppia Sui bassi Abbassa La coppia Della moto E l'unico Difetto Che sono in strada Non è un difetto Lo è solo in pista A questo punto Ti riduce il tempo Di scarico Del contagio Arriva prima Al limitatore Per capirsi Con questo silenziatore Non fa un cazzo Di rumore la moto Cioè se non è Sopra gli 8000 giri Non la senti Praticamente Quando ci ha montato Questo scarico Questa moto Sembra Una di quelle Ragazzine Ninfomani Che prima Sta zitta Poi andare Quando apri È imbarazzante Fa un macello Besta Però sotto gli 8000 È silenziosa È omologabile Ma so che in realtà State aspettando solo Che ve la accenda Quindi adesso Ve la faccio sentire Un po' in azione Let's check it out No No Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è 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 www.mesmerism.info Questo è sinonimo di ignoranza molesta invece come garba essere visto e ricordato a me quando vado in moto Quindi appena ci rimetteranno in zona gialla sarò felice di rimettere il CRT Anche se la moto mi sono reso conto che va meno ma è molto più ignorante Siccome in strada non dobbiamo stare a guardare la prestazione perché tanto un cavallo in più, tre cavalli in meno non conta un cazzo Basta fare percorrenza e darci tanto di più gas Preferisco fare rumore andare più lento Come mi dice qualcuno sei tutto rumore la risposta è sì esatto E ne sono fiero perché cazzo quando ti arrivi la gente ce l'hai così da mezz'ora e c'è torcicollo perché ti senti arrivare È una sega per me Quindi niente volevo farvi questo video semplicemente per il fatto che personalmente l'ho cercato Non ho trovato assolutamente niente in merito E mi sembrava bellino e giusto farvi sapere quello che ho scoperto grazie a delle ricerche semplici Un'altra cosa che mi è stata detta dall'imperiale è stata che gli scarichi corti vanno molto meglio sulle moto Naked Perché avendo un motore che gira molto più cupo, molto più ai bassi Anche se gli vai a sottrarre un po' di coppia ai bassi con questo non gli fa assolutamente niente Ma gli dà appunto il classico sound cupo di una Naked tipo la mia Z vecchia che è da sega Badate bene, non vi confondete, tutti questi discorsi che vi ho fatto sono validi finché i collettori non sono originali Perché? Perché non è che cambiando semplicemente lo scarico si va a cambiare le prestazioni del motore Attenzione Le prestazioni del motore le cambiano soltanto i collettori Attenzione, non lo scarico Lo scarico cambia il modo in cui il motore si esprime Se volete cambiare le prestazioni della vostra moto non dovete cambiare lo scarico Dovete cambiare i collettori Certo, il rumore un po' lo cambia anche lo scarico Ma soprattutto le sportive odierne, anche la mia che è una 2010 Sui collettori hanno qualcosa che si chiama il bombolino Il bombolino sarebbe il filtro antiparticolato, è quello per l'inquinamento eccetera Se voi mettete collettori racing o comunque collettori non originali, non omologati eccetera Quindi diretti Il fatto che le curve che fanno dai cilindri fino al raccordo dello scarico Quelle curve saranno diverse Saranno più distese e saranno meno compresse Il fatto che quelle curve siano meno compresse e quindi più distese Fa sì che la pressione di espulsione dei gas di scarico sia più fluida Essendo più distesi hanno meno pressione come dicevo prima Il fatto che abbia meno pressione Se noi ci andiamo a mettere anche uno scarico corto Praticamente depressurizza completamente il motore Il motore è svuotato E questo non è un bene In primis per il motore E in secondis per le prestazioni appunto Per questo parecchie moto da corsa 600 montano collettori racing come c'ho io Diretti Cioè praticamente leggermente più grandi di diametro il tubo E con una curva più dritta possibile Rispetto a quelle tutte così, dico gli originali E che in fondo alla Y vanno a strozzare Per dare, dove c'è il 4 in 2 in 1 no? Dove vanno a strozzare per dare più compressione appunto a queste onde di pressione E poi c'è un raccordo e uno scarico lungo Perché lo scarico lungo appunto dà pressione Quello corto si va a perdere Se noi già lo svuotiamo con i collettori E in più andiamo a svuotarlo anche con lo scarico La moto perde prestazioni Avendo lo scarico lungo invece Diciamo quello che lo andiamo a togliere con i collettori Lo andiamo a rimettere con lo scarico Un esempio molto semplice per farmi capire questo concetto È stato, mi è stato fatto dall'imperiale Ovviamente mi è stato detto Te giudici quando si annaffia il prato Se te hai una sistola in mano e la pressione è costante Quindi se te apri il rubinetto a tutta E non può cambiare la pressione E hai il bocchettone completamente disteso Quindi il bocchettone normale della sistola L'acqua esce tanta Ma fa poco Fa poca distanza Ok? Come te vai a restringere il tubo invece L'acqua schizza più veloce e più lontano Perché c'è più pressione Perché appunto La bocca da cui esce Il diametro da cui esce È ridotto Per questo ragazzi vi dico che se noi allarghiamo i collettori Ci mettiamo quelli da corsa Rileviamo pressione In più mettiamo lo scarico corto Rileviamo l'altra pressione La moto è depressurizzata E il motore va male Questa è una cosa che io non sapevo E sono rimasto basito Quando ho proprio Ho personalmente sentito la differenza Non sapendola Sono andato da dei professionisti A farmela spiegare E ho voluto portarvela sul canale Quindi il mio consiglio È metterci collettori da corsa O comunque diretti Perché se no non ha senso modificare Tutto l'impianto di scarico Perché non cambia assolutamente niente Scarico lungo Ovviamente abbastanza figo Per riuscire a riacquistare Quella pressione avete perso Per colpa dei collettori Ecco il motivo per cui Le moto del CIV E dell'SBK Hanno Hanno gli scarichi lunghi Spero Vivamente che il video Vi sia piaciuto Io Sono Giorgi Gas Insieme a mio fratello Mi sono riuscito a prendere Un cazzo di drone E adesso faccio una bella dronata Adesso non si fa più le chiavache Le scopate Si fa le dronate Io sono Giorgi Gas Iscrivetevi al canale Mi schiaccio Mi levo dalla via Se non mi schiacciano Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel like Fatemi sapere cosa ne pensate O che collettore E scarico Montrese Sulla vostra moto E sulla mia moto No ma io ormai ci lascio questo No ci metterò il CELT a breve Sono sicuro Io sono Giorgi Gas Se volete le maglie Che oggi non ho Perché devo andare poi A lavorare Quindi sono vestito quasi bene Buon man mano Gas Non so più che cazzo dire In fondo ci si vede sui passi Perché ora ci aprono Tutti liberi Tutti i mega raduno Del team missili Iscrivetevi al canale Grazie a tutti.